La sua bella voce e la sua briosità torna qui a Cantiamo a Napoli, Francesco Pio. Buonasera Alfonso, tutto bene? Tutto bene, ti stiamo vedendo in tante tv, dai, diciamo un po' le tue trasmissioni che stai facendo, un po' di orari. Sì, io sarò tutti i venerdì dalle 19.30 in poi su Ciotv e sarò il martedì dalle 20 in poi a Teleangri 1. Quindi lo possiamo seguire anche in tv. Invece stasera cosa presentiamo al nostro pubblico? A Musica e Cussi, tratta dal mio primo lavoro discografico intitolato alla mia età. Ok, allora seguiamo lui, seguiamo la musica perché la musica è passione e seguiamo soprattutto... Cantiamo a Napoli! Cantiamo a Napoli! Cantiamo a Napoli! E anche la musica è cantare, mille notte dal suonare, sempre a cose di sognare, quanto gridano il mio nome. Il mio nome è una notte per sognare... Tutti insieme per cantare e sentire un'emozione che non ci vuoi spiegare a musica di attucipare. Batte troppo forte il mio cuore tra le luci della città, giuro che mi sento volare, non mi non dovrime cantare. Una notte per cantare, mille notte da suonare, sembra quasi di sognare, quanto gridano il mio nome, il mio nome. Una notte per sognare, tutti insieme per cantare e sentire un'emozione che non ci vuoi spiegare a musica di attucipare. Una notte per sognare, tutti insieme per cantare e sentire un'emozione che non ci vuoi spiegare a musica di attucipare. Grazie per la visione!